Musica Oggi è martedì 17 febbraio 2015, buongiorno a tutti, ben ritrovati cari telespettatori siete in diretta sul canale 17 del Digitale Terrestre alle 7 e 30 del mattino per Occhio e Giornali, la rassegna stampa che tra poco vedremo insieme Cominciamo dal Santo del Giorno, oggi la Chiesa ricorda tra gli altri i santi sette fondatori servi della Beata Vergine Maria il sole è sorto dalle 7 e 04, tramonterà le 17 e 40, il tempo di oggi, il tempo, questa è la fotografia scattata alle 7 e 30 dalla nostra webcam sul nostro osservatorio meteorologico, quello di Fano TV che potrete vedere anche accedendo dal sito occhiolanotizia.it temperatura alle 7 e 30 di 9 centigradi, quindi non è freddissimo per oggi il cielo sarà nuvoloso, in particolare nelle zone interne, con diminuzione della nuvolosità dal pomeriggio precipitazioni deboli sparse, in particolare nelle zone interne, con esaurimento dei fenomeni dal pomeriggio il limite delle nevicate è intorno ai 1200 metri, le temperature sono in lieve aumento nei valori minimi, stazionari invece le temperature massime, i venti di brezza tesa orientali con raffiche fino a moderati lungo la costa. E allora per domani, domani mercoledì 18 febbraio avremo cielo sereno poco nuvoloso, con temperature in diminuzione, i venti di brezza tesa, il mare sarà poco mosso per giovedì, vedete il sole, il sole su tutta la costa, cielo sereno, temperatura in diminuzione, sono i venti di brezza tesa. Per quanto riguarda i giorni successivi, probabile peggioramento nel fine settimana e successivo poi miglioramento. Andiamo a leggere i giornali, cominciamo dal resto del Carlino zuccherificio, i giorni della verità, oggi e domani si vota in consiglio comunale e sarà no per la variante la variante all'ex zuccherificio appunto, variante prima in commissione, poi in consiglio ma i giochi sono fatti solo due sì certi, sono quelli di Aguzzi, ex sindaco, e Severi. La bocciatura inciderà per i prossimi 15 o 20 anni, non ci sarà una nuova variante né incarichi per urbanisti di fama. Fano non è New York e l'area dell'ex zuccherificio non è quella delle Torri Gemelle. L'amministratore unico della società Madonna Ponte, proprietaria dell'ex zuccherificio Duranti spiega e spera che l'amministrazione comunale rifletta e la politica si faccia un esame di coscienza. E la storia, la storia di quest'area così travagliata, la storia dal 1998 ad oggi, si parte dalle scelte di un altro ex sindaco, Cesare Carnaroli, con l'exploat poi di Stefano Guzzi, infine gli scheletri. Una lunga storia, una lunga storia che dura da 15 anni, iniziata nel 1998, scrive il Carlino con la chiusura dello zuccherificio di Fano. E un'altra patata bollente c'è su Aset, faremo calare la maschera alla giunta, domani il caso in consiglio, otto emendamenti del centro-destra. E ancora, l'incompiute di Gimarra, il PD, bacchette il PD. Qui solo scheletri, fate subito qualcosa. Cantieri aperti e abbandonati, allarme dei consiglieri. Federico Perini, sindaco, assessore, diteci il crono programma dei lavori, neppure la chiesa a Gimarra qui è finita. Non ci sono solo gli scheletri dell'ex zuccherificio, ma ce n'è uno altrettanto grande, visibile, un altro brutto biglietto da visita, che è quello che si vede a Gimarra, dalle parti in direzione Pesero, o comunque da Pesero in direzione Fano. Allarme scheletri anche a Gimarra, all'ex colonia Tonnini. A richiamare l'attenzione sull'ingresso nord di Fano, i lavori fermi da mesi, sono i consiglieri comunali del PD. La cronaca invece più in alto, il dramma di due anziani soli, lui infermo a letto, lei a terra con un braccio rotto dopo una caduta. Si sono accorti, per fortuna, i vicini di casa che ieri mattina hanno chiamato poi i vigili del fuoco, il 118 sono arrivati, è successo a Fano vicino in Viale Cesare Battisti, se non ricordo male, la coppia, molto anziani, una donna di 87 anni che si è fratturata il bacino cadendo, poi tutti e due impossibilitati a muoversi, per fortuna si sono accorti i vicini e tutto è finito per il meglio. Ma invece hanno raccontato un'altra brutta storia, una madre e figlia che sono rimaste per due ore in balia dei ladri, terribile, l'altra notte un ride al Boncio, testimonianza shock di una residente, Paola Venturi, chiusa in camera da letto insieme alla figlia, mentre i ladri cercavano di entrare in casa forzando la porta al piano di sotto, un'esperienza terribile da non augurare nessuno, in quei momenti avresti solo voglia di farti giustizia da sola come nel Far West. La battagliera Paola Venturi, conosciuta a Pesaro per il suo impegno come presidente provinciale della Feder Consumatori e tra i residenti che nella notte, tra domenica e lunedì, hanno subito il ride ladresco al Boncio. Quando ho visto le luci delle torce filtrare nella tromba delle scale, mi sono detta è finita, a quel punto ero pronta a non reagire. Allora, andiamo sull'altra pagina di Fano del resto del Carrino, vedete la fotografia della faccione che oggi pomeriggio prenderà fuoco, verrà bruciato e che chiuderà ufficialmente poi il periodo di carnevale. Oggi il rogo del pupo all'imbrunire, scrive il Carrino, ultimo atto di un carnevale fantastico. L'entusiasmo del presidente dell'evente carnevalesca Luciano Cecchini, tutto esaurito nelle tre sfilate. Carnevale Tassa invece protesta dei grillini, seri, il sindaco ci ha fatto lo scherzo, mense e rette, tutto aumenta. Il caso Grizi invece tiene banco sempre sulla pagina del Carrino di oggi, assessore alla legalità, mascherino lo vedete in questa fotografia, ma occhio all'imparzialità. Montalbini, di Prima l'Italia, richiama l'assessore su certe situazioni irregolari e fa alcune supposizioni. Se certe cose le facessero gruppi di altro colore, allora ci sarebbero più problemi, si domanda Montalbini della destra, di area, insomma, centrodestra. Proposta dei 5 Stelle, i primi 15 minuti di sosta siano gratis a Fossombrone, raccolta di firme per sottoporre l'istanza all'amministrazione comunale. Sosta libera di tre ore al massimo. Andiamo sull'ultima pagina del resto del Carlino, il caso Leonardo, questo dipinto, Isabella d'Este che ha scatenato un putiferio, Leonardo, i parenti di Emilia adesso all'assalto dell'incasso milionario. Il dipinto, custodito dalla polizia svizzera, scatena pretese da parte dei cugini. Bibi, che è la donna che teoricamente dovrebbe essere la proprietaria di questo quadro, ci tiene a precisare che la nonna era nata nel 1898 ed era molto istruita, si era trasferita in Svizzera dove aveva acquistato il dipinto. Poi Damiane questa mattina racconta un po' le ultime novità su questo fronte. Emilia sarà ospite alle 11 di un programma televisivo su Rai 2. Apriamo adesso il messaggero. La pagina di Pesaro, regionali, spunta il caso Marche, area popolare oggi a Roma, vertice UDC-NDC o NCD, per un progetto che coinvolge Marche 2020. Nel PD emerge la preoccupazione di una interferenza nazionale su candidato e alleanza. A centropagina la foto invece del Bramante dove c'è stata un'ennesima razzia da parte dei ladri e dei vandali. Un ride all'istituto Bramante al campus scolastico. Poi sorpresa, il ladro di famiglia, il ladro seriale era l'amico di famiglia. Dopo ripetuti furti in casa i carabinieri hanno incastrato l'autore. La prima volta aveva dato la colpa alla sbadataggine, la seconda pure, la terza aveva cominciato a guardare figli e mogli, iniziando a sospettare per quei ripetuti ammanchi di denaro nel cassetto di casa. Insomma, alla fine il ladro seriale era il suo amico fidato, il compagno di bar e di bevute tanto che l'ultima gliel'aveva offerta, proprio con i soldi che gli aveva appena sottratto da casa. Arriva la pizza sospesa, una per te e l'altra la offre a chi non ce la fa. Sbarca in città l'iniziativa lanciata su Facebook, già alcuni locali hanno aderito, il Comune li sostiene. Famiglie no alla povertà schedata. L'Agenzia per le eccedenze alimentari prima di consegnare il pacco viveri ora chiede il modulo ISE ai nuclei indigenti. Parla Don Marco Di Giorgio della Caritas, dice a un mezzo di controllo europeo, Mancini, ma si scontra con sentimenti di vergogna e di dignità. L'altra pagina del messaggero, accoltellato per due grammi di cocaina, una punizione dovuta ad uno sgarro dietro il ferimento di un marocchino a Sasso Corvaro. Le indagini della Procura e dei Carabinieri di Urbino hanno portato a quattro arresti nell'ambito di un giro di droga. Poi da Cagli invece va a fuoco il Silos di un'azienda che si occupa di infissi, di legne e quant'altro. Poi sotto il ritorno della Fano Urbino piace anche ai sindacati il ripristino di questa tratta, criticato invece dal PD fanese che preferisce una pista ciclabile. La pagina di Fano per chiudere, profughi a Lido, l'assessore chiede un po' di comprensione, Barnesi replica prima l'Italia, un clima collaborativo non si costruisce ostentando spirito belligerante, dice l'assessore. Poi notte da incubo per due anziani caduti in casa a Fano, i vigili del fuoco soccorrono marito e moglie. Centropagini invece, rivoluzione nei servizi, il comune di Fano cambia l'isee, l'assessore mascherina, apriremo un dibattito sui criteri da adottare e sulle proteste per le rette scolastiche ritoccate replica abbiamo adeguato le tariffe agli indici Istat e poi ancora fusione tra le due Aset, domani l'atto di indirizzo e poi ancora la cronaca, rapinatori Babbo Natale catturati dopo un colpo a Fano, hanno messo a segno diversi colpi ai danni di banche con la tecnica del buco tra il 2012 e il 2014. Con questo chiudiamo qui la nostra rassegna, vi ricordo oggi pomeriggio la diretta del Carnevale, seguiremo anche noi il rogo del pupo per chiudere questo periodo tutto carnevalesco e quindi appuntamento non vi diciamo l'orario perché all'imbrunire comunque intorno alle 17, 17.30 ci collegheremo con Piazza 20 Settembre. Io mi fermo qui, stasera alle 20.30 c'è il TG, buona giornata a tutti e arrivederci. Grazie a tutti.